Inutile ogni tentativo di soccorso per Vincenzo Licordari, non c'è stato niente da fare. È morto sul colpo per le gravi ferite riportate dall'incidente che si è verificato questa mattina all'alba sull'autostrada Salerno-Reggio Calabria all'altezza dello svincolo di Vattipaglia. Ancora non è chiara la dinamica del drammatico sinistro. Si sa che il 44enne, d'origine napoletane, ma da tempo residente a Pisciotta, docente presso un istituto di Agropoli, al volante della sua Fiat Coupé, ha tamponato a forte velocità un tir che viaggiava sulla corsia sud, un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo al conducente del veicolo. L'auto si è letteralmente incastrata sotto il mezzo pesante, riducendosi in un groviglio di lamiere. Sul posto sono subito giunti i sanitari del 118, le squadre ANAS e gli agenti della Polizia di Stato, ma nulla hanno potuto se non constatare il drammatico epilogo. Per estrarre il corpo, ormai senza vita, del professore napoletano, che da anni si era trasferito nel Cilento, sono dovuti intervenire ai vigili del fuoco. Solo dopo che le autorità competenti hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente, la circolazione autostradale è ritornata alla normalità.